TG Open Lab Potesse arrivare mai e invece è arrivato il primo sì del Parlamento alla legge per l'abolizione dei vitalizi e per la revisione del calcolo delle pensioni degli onorevoli. La Camera ha approvato a larga maggioranza la proposta di legge di Matteo Richetti del PD con 348 sì, 17 no e 28 astenuti. La votazione finale era prevista per il primo pomeriggio ma il clima dell'Aula si è surriscaldato per le accuse incrociate fra Dem e Movimento 5 Stelle. Dai banchi dell'Aula sono volate accuse reciproche di ostruzionismo. Per risolvere lo stallo ecco la riunione capigruppo che nel pomeriggio scioglie gli ultimi nodi e porta la Camera al voto. Dichiarazioni finali e poi la votazione che fa esplodere la parte pentastellata dell'Aula in cori e urla di gioia. Il provvedimento passa così il primo ostacolo dell'iter legislativo. Adesso dovrà approdare nell'Aula del Senato per l'approvazione definitiva. La battaglia a Palazzo Madama si annuncia molto più incerta di quella andata in scena a Monte Citorio. E' scattata in Calabria l'operazione Andrangheta Stragista. Arrestati due boss considerati i mandanti degli attentati ai carabinieri del 1994 a Reggio Calabria. Sono stati arrestati dalla Polizia di Stato due boss dell'Andrangheta considerati i mandanti degli attentati ai danni dei carabinieri compiuti nel 1994 a Reggio Calabria. I due boss sono il capo mandamento del rione Brancaccio di Palermo Giuseppe Graviano, già detenuto e noto per essere un fedelissimo di Totò Riina, e Rocco Santo Filippone, legato alla potente cosca di Andrangheta dei puiromalli di Gioia Tauro. Filippone, 77 anni, di Meli Cucco, era capo del mandamento tirennico dell'Andrangheta all'epoca degli attentati. A quest'ultimo la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria contesta anche il reato di associazione mafiosa, per essere ancora oggi l'elemento di vertice della cosca Filippone, direttamente collegata alla più articolata e potente cosca piiromalli di Gioia Tauro. L'operazione di polizia, denominata Andrangheta Stragista, è stata eseguita dalla squadra mobile di Reggio Calabria, dal Servizio Centrale Antiterrorismo e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia. Le indagini, durate più di quattro anni, hanno svelato il ruolo dell'Andrangheta nella strategia terroristica di destabilizzazione dello Stato nel 1994. Su richiesta di Cosa Nostra, l'Andrangheta progettò tre attentati, che portarono alla morte dei due carabinieri Antonino Fave e Giuseppe Garofalo, e ne ferirono altri due. Per chiarire gli eventi di quel periodo sono stati riascoltati decine di pentiti e collaboratori di giustizia, tra cui Antonino Logiudice e Giovanni Brusca. Decisive sono state le dichiarazioni rese in altri processi da Gasparis Patuzza, protagonista degli Ani di Sangue. Francia brucia la costa azzurra. In fumo 5.000 ettari di bosco evacuate oltre 10.000 persone. Il servizio di Giulio Pinco Caracciolo. L'incubo incendi fa paura anche in Francia. Un grande rogo con diversi focolai ha colpito la costa azzurra, dove sono state evacuate oltre 10.000 persone, tra cui 3.000 campeggiatori nei pressi di Santropè. Diversi soccorritori sono rimasti feriti o intossicati dalle fiamme. Si tratta di una zona ad alto tasso di turismo, che nei mesi estivi arriva a triplicare la popolazione media, peraltro già colpita nelle ultime ore da un altro incendio, che ha contribuito a ridurre in cenere quasi 5.000 ettari di terreno. Le fiamme, propagatesi molto rapidamente e alimentate dal forte vento, impegnano da alcuni giorni quasi 600 pompieri, arrivati anche dai dipartimenti vicini. Per combattere le fiamme, il ministro dell'Interno, Gérald Colombe, ha annunciato l'ordine di sei bombardieri ad acqua, mentre Parigi ha intanto richiesto due canaderi italiani nell'ambito dell'aiuto europeo. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha incontrato questa mattina il capo del governo di Tripoli al Serrage. I due hanno discusso su come risolvere la crisi migratoria. Il punto nel servizio di Michele Zaccardi. Lavoriamo contro i trafficanti assieme all'autorità libiche, lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, alla fine dell'incontro svoltosi stamattina a Roma con il capo del governo di Tripoli al Serrage. Il leader libico ha chiesto supporto tecnico per contrastare il traffico di esseri umani sulle coste del Mediterraneo. Per far questo occorre anche controllare la frontiera sud della Libia, ha concluso al Serrage. La riunione di oggi si collega al vertice tenutosi ieri a Parigi, dove si sono confrontati il presidente francese Macron, lo stesso al Serrage e il comandante dell'esercito nazionale libico Khalifa Haftar. La riunione, a cui ha partecipato anche l'inviato dell'ONU in Libia, Ghassan Salamé, si è tenuta nel castello di Lasselle Saint-Clau, alle porte di Parigi e ha prodotto una dichiarazione congiunta tra i due leader libici. Serrage e Haftar si impegnano a rispettare il cessato e il fuoco, a sciogliere le diverse milizie e integrarle in una forza regolare e a coordinarsi nella lotta al terrorismo jihadista. Sottoscritto anche l'impegno solenne a organizzare elezioni presidenziali e parlamentari il prima possibile, probabilmente in primavera. L'accordo raggiunto lascia però dietro di sé una scia velenosa di polemiche per l'esclusione dell'Italia dal vertice. Macron è intervenuto sul tema, ringraziando l'Italia e l'amico Paolo Gentiloni, ma non ci sono dubbi che l'iniziativa dell'Eliseo rappresenta un duro colpo per l'ambizione dell'Italia di diventare il paese leader nel processo di pacificazione della Libia. Unicredit ha dichiarato questa mattina di aver ricevuto un attacco da parte di un hacker che è riuscito ad avere accesso ai dati di 400.000 clienti italiani relativi a prestiti personali. L'istituto bancario ha poi rassicurato che nessuna password è stata violata, né alcun dato è stato acquisito. Dopo l'intrusione informatica, il titolo in borsa di Unicredit ha perso lo 0,7%. Un ex operaio napoletano ma residente a Torino che percepiva una pensione di invalidità in quanto completamente cieco è stato pizzicato dalla finanza mentre guidava un'auto, leggeva necrologi e faceva la spesa. L'uomo è ora accusato di truffa. Ci racconta tutto Marcello Astorri. A quanto ne sapeva l'Inps, era completamente cieco. Per questo, un ex operaio ottantenne originario di Napoli, ma da anni residente in provincia di Torino, percepiva una pensione di invalidità civile. La guardia di finanza di Torino, però, lo ha filmato e fotografato mentre guidava la sua moto Ape, coltivava l'orto, riscuoteva la pensione, faceva la spesa e leggeva i necrologi. Tutte attività che, in teoria, dovrebbero essere impossibili per un non vedente. L'anziano è stato quindi denunciato dai finanzieri alla procura della Repubblica di Ivrea e dovrà rispondere di truffa aggravata ai danni dello Stato per oltre 100.000 euro. Oltre a dover restituire all'Inps le somme percepite finora con la pensione di invalidità a cui non aveva diritto, l'ottantenne dovrà affrontare un processo e rischia fino a 5 anni di carcere. È stata inaugurata oggi al MUDEC di Milano la mostra dedicata al pittore austriaco Gustav Klimt. Un'ora dentro le opere di Gustav Klimt al MUDEC di Milano è la Klimt Experience, un viaggio nel mondo del pittore austriaco attraverso tutti i sensi. La mostra, che rimarrà aperta fino al 7 gennaio, propone 700 immagini, tra quadri, disegni e foto della Vienna dell'artista a cavallo tra 800 e 900, tutti accompagnati dalla musica, Strauss, Mozart, Wagner, Beethoven e altri. Il consulente scientifico della Klimt Experience, Sergio Risaliti. Un'esperienza immersiva a 360 gradi, figlia, potremmo dire, di quella utopia dell'opera d'arte totale promossa da artisti come Klimt. Lo spettatore accede alla mostra attraverso un tunnel dorato che riprende le tonalità bizantine del bacio, l'opera più famosa di Klimt. L'esperienza vera e propria ha luogo in una grande stanza rettangolare, dove le immagini vengono proiettate su tutte le pareti con una definizione maggiore del Full HD. La mostra non si limita a proporre le opere dell'artista. Le immagini si compongono via via, scivolano sulle pareti. Il pubblico è emerso in un racconto senza parole della Vienna imperiale. Klimt Experience non è semplicemente un documentario, ma una forma nuova di comunicazione, di condivisione. La fashion blogger Chiara Ferragni inaugura oggi a Milano il suo primo negozio d'abbigliamento. Il nostro Federico Spagna è andato a vederlo per noi. Apre un negozio a Milano e sbatte contro la porta d'ingresso. Questa è la disavventura di Chiara Ferragni in visita al suo primo store europeo, ma non del mondo. Abbiamo aperto tre settimane fa il nostro primo negozio a Shanghai, a Plaza 66 di Shanghai, e abbiamo in piano l'apertura di più di 13 negozi nei prossimi anni in Cina e delle altre aperture in Europa e Nord America. Siamo molto soddisfatti, oggi è il primo giorno di apertura ai clienti, poi a settembre faremo l'inaugurazione ovviamente con Chiara molto più in grande, però abbiamo deciso di aprire già a luglio per dare la possibilità ai nostri clienti di poter già acquistare, perché in realtà da quando abbiamo messo fuori l'insegna abbiamo continuato a ricevere richieste di entrare. Chiara è praticamente una cittadina milanese che ha portato la moda in tutto il mondo. I nostri clienti e tutti i fans di Chiara vogliono vivere un'esperienza a 360 gradi del mondo di Chiara, quindi essendo un brand che è nato online ci sembrava necessario riuscire a sviluppare anche il canale fisico. Sui dettagli dell'inaugurazione invece non si è sbilanciato. Tutto segreto non possiamo dire ancora nulla, però rimarrete piacevolmente sorpresi credo. E chissà se ci sarà anche il fidanzato Fedez. Questo spero proprio di sì, spero assolutamente di sì. In arrivo l'estate prossima il film su Barbie. La celebre bambola sarà interpretata da un'attrice premio Oscar. Sarà Anne Hathaway a interpretare il ruolo di Barbie nel nuovo film della Sony Pictures previsto per l'estate del 2018. L'ufficialità è vicina dopo la rinuncia di Amy Schumer, che qualche mese fa ha abbandonato il progetto per i tanti impegni hollywoodiani. La Hathaway, vincitrice di un premio Oscar nel 2012 come miglior attrice non protagonista nel film Le Miserable, è nota per aver recitato in molti film di successo, tra cui Il diavolo veste prada di David Franke e Il cavaliere oscuro e il ritorno di Christopher Nolan, nel quale ha interpretato il personaggio di Catwoman. Nel film dedicato alla famosa bambola, Anne Hathaway sarà un abitante di Barbie Land, luogo da cui verrà emarginata perché non abbastanza perfetta per rientrare nel modello ideale della cittadina. Messa in disparte, Barbie vivrà un'avventura nel mondo reale e, quando tornerà indietro per salvare Barbie Land, avrà trovato la chiave della felicità. La perfezione non viene dall'esterno, ma dall'interno. Bisogna crederci fermamente, senza sentirsi obbligati a rispettare gli standard utopici della perfezione. Barbie sarà un film commedia che vedrà la collaborazione della Mattel, una delle più grandi case produttrici di giocattoli del mondo. Barbie ha una lunga storia alle spalle. L'ispirazione per realizzare Barbie inizialmente arrivò da una bambola tedesca e un personaggio dei fumetti di nome Lili. Ma, quando Barbie arrivò alla Fiera di Mosca nel 1959, era già stata rimodellata, secondo l'immaginario di Ruth Handler, CEO storico di Mattel, divenendo così la bambola che oggi tutti conosciamo. È in programma domani il preliminare di Europa League tra il Milan e i rumeni del Craiova. Dopo un'estate da protagonisti del calciomercato, è in arrivo ora per i rossoneri, il primo esame sul campo. Ci siamo! Dopo tre anni, il Milan torna a giocare in Europa. A poco più di 100 giorni dall'insediamento della proprietà cinese, ecco il primo esame per la squadra di Montella, subito il dentro o fuori del preliminare di Europa League. Ad attendere i rossoneri domani sera il Craiova di Davis Mangia, ex allenatore del Palermo della Nazionale Under 21, che ha già iniziato il campionato rumeno. Nonostante il Milan si alleni da meno di un mese, la squadra sembra essere pronta. I dieci acquisti della coppia Fassone e Mirabelli hanno riportato l'entusiasmo tra i tifosi, galvanizzati anche dalla netta vittoria per 4-0 nell'ultima amichevole disputata in Cina contro i tedeschi del Bayern Monaco dell'ex rossonero Carlo Ancelotti. Alla prima uscita ufficiale della stagione mancheranno gli ultimi tre colpi di mercato, Conti, Bonucci e Biglia, frenati da una condizione fisica ancora insufficiente e da problemi burocratici legati ai trasferimenti. In attacco molto probabilmente verrà data una chance a Cutrone, gole ad orde la tourne cinese, mentre Bacca verrà lasciato fuori in attesa di una proposta interessante dal mercato. Il ritorno è in programma a San Siro per il 3 agosto. Per l'occasione sale la febbre dei tifosi. Sono stati già venduti infatti oltre 33.000 biglietti con la società che conta di arrivare alle 50.000 presenze. Prima di conoscere il suo destino in Europa però, questa sera il Milan scoprirà il suo cammino in campionato. Alle 18.45 infatti verrà sorteggiato il calendario di Serie A. La prima giornata è in programma il 20 di agosto, tre i turni infrasettimanali previsti, mentre l'ultimo turno si disputerà il 20 di maggio. Dal 27 al 30 luglio è in programma a vasto il Siren Festival, chermesse musicale unica nel suo genere. Scopriamo il perché nel servizio di Michele Zaccardi. Sono stati annunciati i nomi degli artisti che si esibiranno al Siren Festival, la manifestazione musicale che si tiene a vasto dal 27 al 30 luglio. Il festival, giunto ormai alla sua sesta edizione, costituisce un unicum nel panorama musicale italiano. Nella incantevole cornice della città abruzzese, abbracciata dal mare, si esibiranno per quattro giorni artisti di fama internazionale e della scena indipendente italiana. I sei palchi, sui quali hanno suonato nelle edizioni precedenti, artisti come gli editor e i Nautwist, ospiteranno oltre 30 artisti e DJ set fino a tardanotte. Tra gli ospiti di quest'anno, la band californiana La Alas, con il suo rock psichedelico anni 60, i Baustelle, che presenteranno il loro nuovo album L'amore e la violenza, e gli Arab Strap, storico duo pop scozzese. Il festival gode di una notevole fama, dovuto al fatto di essere il più importante festival della musica alternativa in Italia, i cui organizzatori si sono ispirati al Primavera Sound di Barcellona. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime edizioni di TG Open Lab. Grazie per averci seguito